Ciò su cui i servizi concentrano la loro attenzione è la verifica della genuinità dei processi di diffusione di contenuti su internet, la tracciabilità delle informazioni postate e soprattutto l'autenticità dei profili social che le producono e le rilanciano, che è un'altra cosa rispetto alla minaccia alla libertà di manifestare le proprie opinioni. Volendo essere ancora più chiaro, i servizi vigilano sul fatto che le dinamiche di creazione e di condivisione dei contenuti avvengano senza distorsione da parte di attori che hanno come obiettivo la destabilizzazione dei processi informativi e democratici.